Battendo il Belvedere nello scontro diretto per 2-0, la squadra Cosentina del Marca rimane l'unica squadra in battute a punteggio pieno del Girone C di terza categoria. A quello adesso, in seconda posizione, si è portata Vescalibur Fronti che con lo stesso risultato del 2-0 ha battuto il Conflenti. Per quanto riguarda le altre squadre, segnaliamo il 3-3 del Cortale contro il Maeda e il 4-0 del Curinca contro il Feroleto. E la bella vittoria esterna del Girifalco che va a vincere 4-2 a Serrastretta, ultima in classifica, e si porta al terzo posto in classifica a pari punti con il Belvedere a 9 punti. Grazie a tutti!